Ritornare a Bianchi per me è stato motivo di grande commozione e di una memoria sempre bella di un borgo così civile dove la gente laboriosa e generosa mi ha sempre aiutato a far bene il vescovo nelle mie frequenti visite, negli undici anni del mio servizio pastoral a Cosenza, Bianchi è al confine della diocesi ma sia per la presenza del giovane parroco, mio segretario, Bianchi era sempre presente al mio cuore quando ho avuto le suore disponibili ad andare in una parrocchia, le suore bravissime, le ho mandate a Bianchi Bianchi ricorda tanti motivi di incontro, di effetto soprattutto i giovani sono ritornato per far memoria e per sentire ancora l'impegno di seguire questa bella comunità come posso, con la preghiera che da me è fecondata, che mi è fecondata dalla sofferenza del mare che porto di sopra offro preghiere, sofferenze, ma soprattutto mi illumino di questa amicizia che ha segnato un pezzo importante della mia vita Bianchi Bianchi